Faccio complimenti ai miei ragazzi, è un risultato storico anche per la nostra società, quindi sono contento perché comunque ci ha messo anche in condizioni di affrontare una trasferta logisticamente non semplice, nei migliori di modi e comunque faccio complimenti anche ai nostri avversari che sicuramente hanno proposto qualcosa di interessante. Sì, noi sapevamo che comunque venivamo a giocare su un campo veloce contro una squadra comunque veloce tecnica, quindi l'approccio secondo me è stato importante e probabilmente la chiave, quindi imporre un po' il nostro ritmo, quello che è il nostro gioco e comunque penso che durante tutta la gara è stata una partita comunque interessante, con dei temi interessanti. Sì, è un po' quello che cerchiamo di fare, concentrarsi su impegno che ci aspetta senza disperdere troppe energie perché veramente il ritmo che ci siamo imposti è importante, difficile da reggere, questa era la quarta trasferta in poco tempo, domenica ci aspetta un'altra trasferta, quindi è un periodo impegnativo, però penso che è anche interessante e bello da vivere allo stesso momento, quindi un po' cerchiamo di riciclare quelle che sono le nostre energie mentali. Sì, non è un concetto che mi piace anche come turnover perché penso che i ragazzi che hanno giocato oggi non sono inferiori di quelli che hanno giocato domenica, quindi siamo una squadra importante, una rosa importante che cerca di fare comunque un campionato nei primi, nel vertice, e quindi penso che i ragazzi di oggi meritano solo complimenti per la prestazione che hanno fatto.